Benvenuti nel mondo degli orologi Universal Geneve. Universal Geneve è un marchio di orologi di lusso svizzero con una storia lunga e importante nel mondo dell'orologeria fondata nel 1894 a Ginevra. Il marchio si è distinto nel corso degli anni per la sua innovazione tecnologica e la sua attenzione alla qualità artigianale nella produzione dei suoi orologi. Universal Geneve ha creato molti modelli iconici, tra cui il Polrute, il Tricompax e il Compax. Il Polrute, lanciato negli anni 50, era un orologio da polso automatico che si distingueva per la sua precisione e affidabilità. Il Tricompax, invece, era un cronografo con triple complicazioni, ovvero cronometro, calendario e fasi lunari. Infine, il Compax era un altro cronografo iconico di Universal Geneve, con un design elegante e una precisione superiore. Universal Geneve ha sempre posto una grande attenzione alla qualità artigianale nella produzione dei suoi orologi. Ogni orologio era realizzato a mano da artigiani altamente qualificati, che lavoravano con grande precisione e attenzione ai dettagli. Questo approccio artigianale alla produzione degli orologi ha reso i modelli di Universal Geneve molto ricercati da appassionati e collezionisti. Universal Geneve è stato anche un pioniere nell'innovazione tecnologica nel mondo dell'orologeria. Il marchio ha sviluppato molte tecnologie innovative nel corso degli anni, come il movimento al cronometro, il cronografo con triple complicazioni e l'uso di nuovi materiali come la ceramica per le casse degli orologi. Nonostante il marchio non produca più orologi, i modelli storici di Universal Geneve sono ancora molto ricercati da appassionati e collezionisti. La sua eredità continua ad essere celebrata e apprezzata dagli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Universal Geneve ha sempre cercato di utilizzare materiali di alta qualità per la produzione dei suoi orologi. Il marchio è stato uno dei primi ad utilizzare la ceramica per le casse degli orologi, un materiale resistente e leggero che ha rivoluzionato il settore dell'orologeria. Grazie. 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 Grazie.